Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, qualche problema in A1 dove troviamo 6 km di coda per incidente con tendenza all'aumento tra Valdarno e Firenze Sud nella carreggiata verso nord. Regularizzato al momento il traffico in A11, in Fipili permangono code a tratti verso Firenze, tra Ginestra e Firenze Scandici. Siamo al trasporto pubblico locale, segnaliamo deviazioni delle linee ad Aulla dal 29 al 31 maggio. Ci spostiamo a Poggi Bonsi fino a fine mese, modifiche per la circolazione in via Senese. Tutti i dettagli e i provvedimenti sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meravigliata in Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.